Musica Lunedì 13 giugno, buongiorno e buon inizio settimana a tutti i nostri telespettatori. Iniziamo subito anche oggi la rassegna stampa di Molise TV leggendo i principali titoli del quotidiano online Tutto Molise. Isernia tra una settimana i cittadini chiamati nuovamente alle urne. Fermo Pesca, probabile ritorno nel mese di agosto e poi Campobasso, grande successo per la sesta edizione del concorso fotografico dell'Infiorata. Si è aggiudicata alla vittoria Patrizia Pace con un'opera d'impatto emotivo. Andiamo avanti con il quotidiano del Molise. Che apre oggi con Melogli e da Pollogno, quindi con le amministrative, corrono da soli. E domenica prossima il turno di ballottaggio che decreterà il nuovo sindaco di Isernia. I due candidati non hanno ufficializzato apparentamenti diversi dalla coalizione con cui si sono presentati il 5 giugno. Melogli e da Pollogno hanno scelto di non ufficializzare apparentamenti in vista del turno del ballottaggio del 19. E poi ancora amministrative domani faccia a faccia sul web tra i due sfidanti. La diretta del quotidiano è di Molise web. E ancora Isernia. Bottiglieri si parla quindi del Movimento 5 Stelle. Un elettore su dieci ha votato 5 Stelle. L'analisi del post voto al comune di Isernia. E poi ancora giuramento di Ippocrate per 39 neodottori. Spostiamo l'attenzione sul taglio alto. Troviamo la cronaca. Minacciano di morte i carabinieri intervenuti per sedare una lite in famiglia. E poi Oratino, ritrovato Ordigno Bellico, la bomba ritrovata nelle campagne, risale alla seconda guerra mondiale. E poi parte oggi la consegna della posta a giorni alterni. Mentre spostandoci nel taglio basso della stessa pagina troviamo lo Sport Serie D. Lupi si apre una settimana decisiva per la nuova società. Sul tavolo anche discorso ripescaggio. E ancora atletica. Kip Koirir e Lamachi si aggiudicano il sedicesimo San Nicandro. Grande spettacolo ieri pomeriggio a Venafro. E la nostra attenzione si sposta su primo piano Molise. Ballottaggio. Troviamo quindi anche qui le amministrative in apertura. Meloglie da Pollonio senza apparentamenti ufficiali. Nulla di fatto alla scadenza del termine per formalizzare le alleanze. In vista del voto di domenica prossima. Il Movimento 5 Stelle lascia libertà di coscienza agli elettori. Quindi isernia ultimi giorni di propaganda per il generale e l'ex sindaco. E poi troviamo Campobasso, Blitz del Comune e i volontari trovano l'area verde pulita. I lavori in via Alfieri poche ore prima dell'iniziativa programmata dall'associazione ci hanno boicottato. Anche qui nel taglio alto troviamo la cronaca, Venafro, minaccia, i carabinieri intervenuti per sedare una lite. Quarantenne finisce in manette. E poi Silvio Berlusconi in ospedale De Girolamo. Penso a lui e non al partito. Detesto questo sciacallaggio, parla il commissario di Forza Italia. La nostra attenzione si sposta sul taglio basso. Troviamo lo sport. Calcio, isernia. Ruggeri torna sull'annata pentra. Ho sempre onorato la maglia su di me, solo accuse gratuite. E poi troviamo podismo. Trofeo di San Nicandro. Kirchir e Lamachi confermano i pronostici. All'amatori Fiat Cassino il trofeo per le società. E poi infine Giudo. Maria Centracchio trionfa agli assoluti, secondo titolo italiano di famiglia nell'ultima settimana. E il nostro appuntamento prosegue con l'Agenzia Stampa Molise Online. Petraroia il Molise rilanci l'appello di Sergio Chiamparino al governo sul lavoro e sul sociale. Campobasso, Pietracatella, i premiati del premio letterario nazionale Fabrizio De Andrè. E poi Venafro, controlli dei carabinieri, arresti, denunce e contestate violazioni nei confronti di 12 automobilisti, uno dei quali sorpreso alla guida in stato di ubriachezza. E poi Petrarcone, Ogbonna dell'europeo è un vanto per la città di Cassino. Il rischio di una rottamazione dell'agricoltura molisana. E poi Campobasso, PSI, appello per garantire l'esercizio della democrazia. E poi Movimento 5 Stelle Molise, sette note per aiutare chi è in difficoltà. Il nostro appuntamento prosegue con le principali testate nazionali, iniziando come sempre dal quotidiano La Repubblica. Strage nel club Gay, la firma dell'IS, USA, ventenne di origine afghana, dichiara fedeltà al califfo e irrompe in un locale in Florida. 50 morti, poi è ucciso. Lo Stato Islamico rivendica, è uno dei nostri, Obama, un attacco a tutti noi. Trump più duri con l'Islam, si dimetta. E poi, nel taglio basso, immigrati a Milano, corruzione a Roma, ecco le sfide che decidono i ballottaggi. Spostandoci ancora più in basso, Parigi vieta l'alcol agli hooligans, ma la sicurezza fa ancora acqua. E ancora, guarda il mare per me, Francesca, le lettere del carcere di Enzo Tortora. Andiamo avanti con il fatto quotidiano. Ora la Boschi gioca sporco, comunali, la ministra minaccia di tagliare i fondi di governo se il Movimento 5 Stelle vince a Torino. Referendum e il no è un atto di resistenza, non mogliamo. E poi, spostiamoci nel taglio alto. L'America spara ancora, strage nel locale Gay, 50 morti e 53 feriti. Ad Orlando ucciso il killer, Siete pubblica la rivendicazione Isis. E ancora Francia. Altri sconti a Lille, la UEFA minaccia esclusioni europei 2016, Russia e Inghilterra sono avvertite. Mentre troviamo nel taglio basso la storia di copertina, il giallo del ballottaggio. E ancora più in basso, la solitudine davanti all'universo. Si parla di una galassia piena di cialtroni, si interroga sui cieli. E il nostro appuntamento prosegue con il quotidiano libero. Che apre con Casini in banca e lui dorme. Le distrazioni del governatore, Ignazio Visco, è da solo un buon motivo per chiudere Banca Italia. Non ha vigilato sugli istituti che rischiano fallimenti in serie e sogna più tasse sulla casa. E mentre perfino il Quirinale taglia, lui ha aumentato le spese di Palazzo Coccio. E poi, Maria Stella Gelmini. Non ho fidanzati, ma sono innamorata. Nel taglio basso, invece, Mr. Expo ci lascia un miliardo da pagare. E poi le Olimpiadi a Roma ce ne costerebbero otto. I giochi del PD e dei suoi candidati li finanziamo con le tasse. Andiamo avanti con la Gazzetta del Mezzogiorno. USA. La strage targata ISIS. In Florida, 50 morti nel locale gay. Il killer era devoto al califo. Obama, il massacro peggiore. Trump, linea dura contro l'Islam. E poi, lateralmente, troviamo sfuma il bel sogno del Foggia. In B, europei. Stasera Italia-Belgio. E poi troviamo la misura all'esame del governo. Statali licenziamenti sprint per i furbetti del cartellino. Il ministro delle riforme, ottimista sui ballottaggi. Spostiamo l'attenzione sul taglio alto. Bari, per gli alpalti, lista di aziende pulite. Alla firma di De Caro, il protocollo antimafia. Imprese, sindacati e società civile. Norme severe anti-corruzione. E ancora, nel taglio alto, no all'impunità infinita per chi prenderà l'irva. Bratti, a Taranto si deroghi anche per l'ARPA. Monsignor Santoro non si può morire per il lavoro. Mentre, spostiamoci nel taglio basso, Puglia costa 30 milioni la legge anti-Tarantini. E ancora, lateralmente, Frecciarossa a Lecce. C'è festa e selfie in stazione. Barletta esclusa e ci sono proteste. Mentre, nel taglio ancora più basso, Bimba beffa il rapinatore. Mezz'ora di terrore, arrestato un 49enne. E il nostro appuntamento prosegue con lo sport, leggendo le principali notizie del Corriere dello Sport. Grinta e testa. Conte sfida il Belgio e carica l'Italia. La Nazionale al debutto, stasera alle ore 21, il commissario tecnico ci crede. Servono aggressività e tattica per vincere. Loro pieni di talenti. Mentre, spostiamoci nel taglio alto, rischio esclusione per inglesi e russi. Pugno duro UEFA, dopo gli incidenti di Marsiglia, espulsione in caso di altri episodi di violenza. Lateralmente, troviamo scritto in grande, e Berardi l'attaccante per l'Inter. Una svolta clamorosa. Il giocatore del Sassuolo non sembra convinto della soluzione Juventus. Il club nero-azzurro pronto a buttarsi nella trattativa. Sempre lateralmente, spostandoci in basso, troviamo Juve, Pjanic, è già a Torino. Oggi le visite a fare fatto. E ancora la novità, il Napoli pensa a Bebi Tolisso, talento francese. E poi troviamo Germania KO, Milik decisivo per la Polonia. E poi Gattuso in B colpisa. Il patron lo licenzia. Spareggio brutti incidenti a Foggia. E poi troviamo la Formula 1, Hamilton altro trionfo. Vettel illude secondo. Lewis vince in Canada davanti al ferrarista. Il nostro appuntamento si conclude con la Gazzetta dello Sport. Che troviamo aprile con Siamo l'Italia. Stasera il debutto azzurro con la nostra difesa di ferro. Il gruppo è la Coppa d'attacco Eder-Pellé. Sfidiamo il Belgio dei fenomeni. Nell'altra gara del gruppo tocca Ibra con l'Irlanda. E poi, spostandoci nel taglio alto, Super Vettel, Autogolf Ferrari. E Hamilton festeggia come a lì. Troviamo quindi il Gran Premio del Canada. Seb scatta in testa. Poi una scelta discutibile. E spostandoci invece nel taglio basso. Gattuso colpito ma va in B. Pisa promosso. Bottiglietta sul tecnico. Vittoria che vale più del Mondiale. E il nostro appuntamento per oggi finisce qui. Grazie come sempre per la vostra attenzione. Vi lascio al meteo augurandovi una buona giornata. Arrivederci. Il meteo è offerto da Signora, dico a lei. Acconseglie assegni spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV. E la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per lunedì 13 giugno. Persiste un flusso di correnti in quota di origine atlantica che rinnovano una spiccata variabilità tra Puglia, Basilicata e Molise. Cielo spesso nuvoloso, soprattutto nelle ore centrali della giornata, con occasione per delle piogge. Temperature in diminuzione nei valori massimi, ma vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 13, massima 19 gradi. Isernia minima 15, massima 21 gradi. Termoli, temperature comprese tra i 19 e i 22 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei. Acconseglie assegni spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV. E la famiglia torna a sorridere. Spendi e risparmi di Molise TV.